Un caro saluto agli amici di Qui Cosenza. Che tempo farà in questo fine settimana e anche nella prossima settimana? Ebbene il caldo sarà ancora protagonista, anche se su Cosenza e provincia il caldo sarà moderato. Infatti prevediamo temperature massime di 30-32 gradi lungo le coste, 32-34 nelle zone più interne. Per quanto riguarda i fenomeni purtroppo non sono previsti temporale, quindi si aggrava il problema della siccità. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.